Good morning, dear pupils, how are you? Spero che abbiate passato una buonissima Pasqua e che vi siate abbuffati fino alle orecchie, giustamente, perché Pasqua bisogna mangiare ma ora torniamo alle nostre lezioni non so se è una buona notizia questa che sto per darvi, cioè che abbiamo quasi finito in realtà il programma che mi ero prefissata e per cui ci saluteremo a breve, a meno che non abbiate tutta questa voglia straordinaria di fare dell'altro esercizio in inglese ma basta dirlo perché qualcosa da farvi fare lo trovo sempre e mi auguro soprattutto che lo state sentendo il rumore di fondo che è il mio adorabile vicino che è rientrato in casa due minuti fa e ha già iniziato a sparare la musica a palla però vi do una buona notizia che è anche una buona notizia per me e per la mia sanità mentale secondo me mi sta sentendo parlare e pensa che o sono matta o dice boh magari questa sta facendo qualcosa di socialmente utile la sta tenendo un po' più bassa rispetto al solito comunque veniamo noi al prossimo argomento che dobbiamo trattare che in realtà è qualcosa che va di seguito a quello che abbiamo fatto la volta scorsa la volta scorsa abbiamo visto i comparatives cioè comparare due oggetti e due persone dicendo che uno è più alto dell'altro, è più basso dell'altro, è meno o è tanto quanto perché abbiamo visto tutti e tre i tipi quello che invece vediamo oggi sono i superlatives in questo caso quelli relativi e poi è la stessa cosa che esiste anche in italiano voi sapete che ci sono i comparativi il superlativo relativo e il superlativo assoluto quello assoluto non ve lo faccio perché in inglese basta mettere un veri davanti cioè tendenzialmente basta mettere un veri ok? davanti all'aggettivo cioè in italiano cos'è il superlativo assoluto e quando voi dite ho visto un film bellissimo ok? ho visto un film molto bello assomiglia ai comparativi ma attenzione il superlativo relativo è prendere un oggetto, una persona e compararlo con un gruppo ok? non è più un rapporto a uno a uno ma è uno contro un gruppo per esempio Jessica è la più alta della classe ok? cioè ci sono io comparata a tutta la classe va bene? come si fa in inglese questa cosa? in realtà è molto semplice se l'aggettivo è monosillabico si mette est alla fine dell'aggettivo tipo small est ok? però attenzione a quello che ci va prima dell'aggettivo come potete vedere dal costrutto si mette the cioè l'articolo più l'aggettivo più est se è monosillabico più il nome a cui si riferisce poi c'è tutto il resto della frase ok? cosa succede invece se l'aggettivo ha più sillabe? semplice uguale si mette sempre the però adesso non si mette più est in fondo all'aggettivo ma si mette most davanti all'aggettivo per cui the most aggettivo più il nome a cui si riferisce e poi tutto il resto della frase per esempio the most expensive house ok? la casa più costosa the most popular girl la ragazza più popolare va bene? attention number one siamo ancora al number one ovviamente alcuni aggettivi monosillabici esattamente come succedeva con i comparativi raddoppiano l'ultima lettera per cui per esempio thin thinest ok? con due n hot hottest va bene? attention number two gli aggettivi che finiscono in y tipo healthy o noisy ok? perdono la y e mettono yes the noisiest the healthiest ok? attention number three ci sono quei famosi tre aggettivi irregolari che sono gli stessi dei comparativi cioè good bad far good diventa the best bad diventa the worst ok? e far diventa the farthest sempre scritto con la u o con l'a l'importante è che ci mettete l'h in mezzo ultima tension quando vi riferite al gruppo ok? non si mette of cosa vuol dire questa cosa? vuol dire come nella frase che vi ho fatto ad esempio Jessica is the tallest girl in the class non of the class voi in italiano dite è la più alta della classe si può dire anche nella classe però secondo me vi viene più automatico dire della classe in inglese non si dice della con of ma si dice in the class ok? this is the most wonderful place in the world questo è il posto più meraviglioso del mondo ok? però voi dite in inglese in the world va bene? con i superlativi oltre alla costruzione del tipo è la più alta nella classe è il posto più bello del mondo si utilizza spesso anche il present perfect per esempio london is the most beautiful city I've ever seen o I've ever visited ok? you are the most wonderful guy I've ever met va bene? con l'ever perché vuol dire mai ok? il vostro libro cioè questa cosa ve la faccio perché ve la segna il vostro libro vi dice che esiste anche the list the list è praticamente il contrario di the most ok? cioè tipo voi potete dire Sara is the least tall girl in the class o potete dire Sara is the smallest girl in the class vuol dire Sara è la meno alta della classe o potete dire Sara è la più bassa della classe è buon ok? però ve lo segnalo the list perché comunque ce l'avete anche voi sul libro dunchi l'argomento lo trovate a pagina 134 ed è il 5b ok? qui qui ci sono gli esercizi da fare e poi vediamo se sia stata previdente sì e mi sono segnata che a pagina 203 trovate anche tutto il resto cioè qua nella grammar ok? che è qui e io vedo sempre il contrario tutto perché faccio fatica è il 2a b c e d ok? poi nel classroom vi metterò un esercizio che mi è venuta questa idea non di mia sponte ma seguendo un corso online però c'è un esempio adesso non vi spaventate vi dito oddio questa cosa ho fatto siccome è un po' che non vi vedo scrivere cioè più che vedervi scrivere mi sarebbe piaciuto più sentirvi parlare però siccome non posso né l'uno né l'altro e siccome questo argomento non mi sarebbe mai venuto in mente se ci fossimo trovati vis a vis perché sarebbe stato proprio cioè nel senso che non ci trova nulla vorrei che mi scriviate se avete voglia e tempo un typical day during your quarantine ok? cioè una giornata tipica durante la vostra quarantena io vi ho messo sia una breve traccia tipo con qualche domandina a cui potete rispondere ma sotto sono stata molto carina e vi ho scritto non lo dico da sola no è perché mi spiace non essere con voi per potervelo raccontare ecco come facevo di solito cioè che prima raccontavo io e poi dicevo a voi provate a farlo esattamente come ho fatto io ok? allora sotto vi ho scritto un breve testo di quella che è una mia giornata tipica durante la quarantena potete più o meno basarvi su quello potete cambiarlo potete farlo come volete non c'è bisogno che mi dimostrate i grandi doti da scrittore premio Pulitzer ok non mi interessa tenete a mente il nostro motto quello che vi farei stampare sulle magliette sulle tazze su un poster ovunque purtroppo ancora non ho potuto farlo però ci ho pensato che è sempre lui sono tre parole fondamentali che sono keep it simple ok? questo è il mio telefono noi ci vediamo molto presto mi farebbe molto piacere leggervi non avrei mai voluto leggere una cosa del genere avrei preferito sentirvi parlare non so di cantanti di gruppi di film o di quant'altro però adesso diciamo l'occasione è per scrivere una cosa del genere per cui se vi va potete appunto scrivermi questo breve testo io vi saluto spero che ci vedremo molto presto e vi auguro buon lavoro buon inglese vi mando un abbraccio and goodbye buon inglese